Intro 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 Benvenuti ragazzi, se non ci sono Gessi per questo nuovo video, oggi siamo in Minecraft Bed Wars in 2 con il buon Gabbo Dove sei? Gabbo, ti si 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 può sentire Saluta, Gabbo essere in grado. Ragazzi, non fidatevi di Gabbo fa schifo come persona. Non parla neanche. Cacchio no. No, qua hanno cambiato tutto il menu. Io ti sto facendo un giro da sopra. Io, tento. C'è una gara che ha più blocchi. Ah, no, ha vinto lui. Tutto quello che si sente sappi che verrà a finire nel video. Io, guarda che è provata. Io, guardami. L'altro ti è volato alle spalle. Vedrai poi da una rec. Sì, non lo sa neanche il nome. Sono talmente blocchi e l'ho ucciso, senza guardarlo. Questo finisce di sicuro nel video. Azzuti! Azzuti! Mi chiamo io! Ma io ho il diamondo, Gabbo. Fai tu, io ho il diamondo. Che ci piace. Ma tu hai capito? Io vai. Ah, ma cacchio non sei. Epic fight. Ma quello non sei tu! No, sta venendo da noi. Ci ho messo un attimo a capire che era un nemico. L'ho ucciso. L'ho ucciso. Bella. Aveva due diamanti. Ok. L'aveva presi nello spawn. Quando uccidi la gente ti dà la roba, non me lo ricordavo. Oh, po'. Mi hanno buttato giù. Io provo a andargli in faccia. Eh, ma c'è un sacco di roba. Sì, io rompo le scatole. Mi dà soddisfazione. Io ho un diamante. Sì. Che cacchio ci compro con loro? Eh, buh. Andiamo al centro? Non lo so, io sinceramente mi hanno già abbastanza rotto le scatole che sono i chan. Ah, ecco, con noi dobbiamo comprare la TNT. A me il grigio mi sta dando fastidio. Giusto, la TNT. Aspetta, ci diamo sto grigio? Sto per andare in una missione. Vai, come il chilo! No, cacchio. Hanno rotto il ponte. Gabo, comunque fai schifo, non hai neanche salutato il pubblico a casa. Ciao, pubblico a casa. Bravo. Soltanto dopo che ho la recca c'è stata 10 minuti. Quanto costa un fireball? Amo a fireball. Quello è un fagotto. Combattiamo! Vai! Let's have a PvP fight! Muoio. No! A PvP fight! Non pet fight! No, no, no! Io ci muoio o no? Ci... Sono salato. Ci sono salato? Ma do che fortuna. Oye, resisti. Io... No, ziii! Cianciancianciano! Oh, io ho una TNT, io punterò ai Ciano. Oh, ig, Gabo, arrivano i Ciano. Non è un problema, ci basta ucciderli. Anche i grigio ritornano. Dobbiamo battere. Stanno ritornando, infatti. Guarda, è uno schifo. No, tu pensi al Ciano, io penso al Grigio. No, tu pensi al Grigio, io penso al Ciano. Sì, ce l'abbiamo fatta. Gabbo, hanno fatto una TNT, mettitela da parte. Hanno droppato una TNT vicino al Villager. Non la mettiamo da parte, andiamo a uccidere i Ciano. Cioè i Grigio. No, i Ciano. I Ciano sono più vicini. Eh, hanno già rotto abbastanza di scatola. 10, 10, 10, 10, 10, Bobbi. Ah, il contraccolto. Non lo blocchi. Sei un genio. Cacchio, ma mi ha fatto un male porto. Sono morto così a caso. Carai, il Blu non ha perso il letto. Siamo rimasti noi, i Grigi e gli Acqua. Che bello, è la partita più speed del mondo. No, vattene, vattene, vattene. C'hai la TNT, brutta, maledotta. Cosa? I Grigi sono fu il diamante. Che bello. Ah, già, non hanno più. Quello più mero. Ah, ah. Gabo, uccidili. Buttali giù, Gabo. Non c'è a dirsi che farsi. E buttali giù. Tu li butti giù. E li lasci crepare. Torna qui. No, no, sono caduto. Sono inciampato. Porco. Non resisti. Ti ho l'ho uccisi davvero. Non ci credo. L'hai uccisi. Sì. Che pro, Gabo, attenzione. Gabo pro killer. Ora li lascio. Non so manco dove era l'ora d'isola. Eh, credo sia dall'altra parte della mappa. Ok, vedo un loro ponte. Muori, muori. Io devo uccidere. No, sono qui, sono qui. Sto spawnando. Sono spawnato. Sono spawnato. Ecco, ma poi. Gabo, stavolta non c'è di niente per nessuna. No, sono dietro di lui, ma lui è avanti. Ci rompe il letto, io. Eh, lo vedo. Ok, mi ha buttato giù. E c'è anche il ciano, già che c'eravamo. Ok. Ok, buono. Entra, dottore, scatto. Io vado dal grigio. Sto respawnando lo stesso. Io vado respawnare e corri. Non stare a combattere. Corri dove? Spiegami. Verso l'infinito, ero oltre. Gabo, non ho rotto pure il ponte. Corri dove? Spiegami. Non so, corri a qualche parte. Fai una fugatata. Io sono morto. Non avevo dubbi. No, no, manca un blocco. Che tristezza. Se sbagliate, piazzarlo. Dove vado? Sono da solo. A questo punto faccio un po' il demente. Fine. Vai. Vai. Stalking. Gabo. Guarda, guarda. E come mi ha ucciso? Piggialo. Eh, ma se lo uccido perde tutti gli smeraldi che ha preso. Ne hai uno dietro. Ne hai uno davanti. Eh, vabbè, tanto sapevo che non sarebbe... Hai ucciso l'altro grigio! Morda le spawne, io. Ormai mi sono... Ciao, io. Vabbè. Vabbè, fa niente. Vabbè, non è un problema. Ma possiamo fare una Skywars. In quelli io sono... Ci vediamo in un'altra partita. Ok. Ultima partita. Della giornata. Speriamo in bene. Questa mappa qua, per mia fortuna, la conosco. Lasciamo 100 stavolta. Eh, sì. Guarda. Click. Perfetto. Ok. Non capisco cosa voglio dire. Eh, tu vai al centro, io punto al... Al diamante. E te cerca e metto tipo Enstone o qualcosa di oggetto. Oh, sì. Vai al diamante, vai al diamante. Oh, hanno dannato uno. Perfetto, non ti hanno scoperto io. Cosa? Bravo. Io prendo Smeraldi, puttiamo un sigliano, voglio vedere che... Che bello, ho già finito i blocchi. Non mi ricordavo che fosse così costoso giocare alle Bad Wars. Alla fine, cioè, sei andato avanti. Con che anime stai andando avanti adesso? Alla fine, ho finito tutto il Trecco di Gigante. Anche la seconda stagione? Sì, sì. Hanno appena... Tipo in un giorno. Bravo. Eh, non so. Cioè, c'eri con China, ma non ci sono. Eh, no, perché hanno... È uscito solo il trailer per il momento. Poi sono già sette di Smeraldi. Gabbo, viene il diamante. Sono... Li vedo molto infuriati. Li vedo mo... Ok. Eh, io sono lontanissimo io. Aspetta. Niente. Arrivo. Dimmi che non è al nostro letto. No, no. Era l'acqua. Noi cosa siamo? I bianchi. Sempre i bianchi. Ok. Siamo i bianchi. Dov'è casa nostra? Mi sono totalmente... Eh, stiamo facendo... No, sono andato troppo. Ma è una mucca. È una mucca davanti. Sto guardando. È una mucca. È una mucca. Aspetta, mi devo prendere il blocco. La terra sotto i piedi. Vai, schifo, vai. Sto guardando i piedi. Aspetta. È morto. Io vengo anch'io. E avete i blocchi, Gabbo. Vieni. Tanti blocchi. Ti vieni giù. Sono diamanti. Muoio. Torno a casa. Ok, però prendi tanti blocchi. E metti... Non c'è i blocchi. Inizio trap. Tanti. Ne sono tantissimi. No, no. Metto sharp. Sì. Perché mi hai preso? Per un villager? Forse. Ok. Non lo so. Io ho appena... Ho appena fightato con una mucca. Dimmi tu. Dimmi a chi sta andando meglio. Ne ho tanti blocchi. Questo solo su TheHyperGamer, il canale YouTube, delle persone con problemi mentali. Yeah. Che però giocano ai videogiochi. E quindi... Va bene. Mi piace. Dieci. Vengo a portarti i blocchi. Gabbo, vieni. Ok, Gabbo c'è la mucca che sta andando, quindi... Ho già un piano. Guardalo. Illuso crede di poterci toccare. Hai la TNT? Sì. Io sono sopra la rolex. Non ho messo il vetro. No, non sopra. Sopra non c'è. Ah, sì, sopra c'è. Sì, sopra c'è anche. Io... Bisogna riuscire a scendere. Spaccarò un pezzo il vetro. No, mi l'ho abbracciato! Vai, Gabbo! Ce l'hai fatta! No! No! L'ho piazzata male! No, Gabbo! Ora ci torniamo, eh? Direi proprio di sì. Anche senza armi. Devo spacchiamo mano. Devo spacchiamo mano? Vabbè, volendo sì, basta la spada. Io, ma non salire tutto, facciamo un ponte dritto, no? Se no, usiamo 100 milioni. Io non sono 16. Non riesco a seguire tutto sto coso. Eh, sì, io ho fatto 16 più 6. No, lui c'è un arco! Non mi facciare. Sono matto da sale! No! Questi mi stanno aspettando. Non posso rompere la mano. Gabbo, io sono qua, però non ho la TNT, non ho niente. E questi qua mi aspettano braccia aperte. Dai, io ho un calodoso braccio. No, i rossi, i rossi e i gialli. I rosa, i gialli e i rossi. Gabbo! Ci hai fatto? Sì, ma bene che sono rimasti a guardarmi. Mi guardavano così. Dopo non ho fatto una piega. Non hanno fatto una piega che fosse una. Gabbo, truca. Hanno visto che hai troppo fatto. E adesso sono al centro. Prendo uno stack di smelagli e arrivo. Tu non hai capito. Gabbo, mi sa che si giocano il tutto per tutto. O forse no. Sì. Quando il gioco si fa duro, il gioco si fa duro. Il prosciutto inizia a giocare. Più o meno. No, no, no. Mi ha frecciato. Dov'è cacchio la nostra visione? Ah, ecco. Dov'è cacchio? Non è venuto. È tornato in... Buongiorno Italia, buongiorno il paese più bello del mondo. Eh, vuoi morire? Eh, volevi? No. Ok, mi sta frecciando. Sì, l'ho buttato giù. Ma hai fatto qualcosa di così decente e non aveva... Bene, bene, bene. Ce ne mancano pochi. Pochi pochi. Tu non mi stai guardando, vero? Sì, mi sta guardando. Non c'è questo schifoso. Tu non è così. Tu non hai visto niente. Però... C'è anche. Un giorno il paese più bello del mondo. Oh, non so se andrei a uccidere i rossi. Perché? Ma... Ma erano tutte e due mucche. Tutte e due sono... Come fa a prendermi attraverso i blocchi? Mi ha ucciso attraverso i blocchi di foglia. Come fanno le frecce a prendermi tra i blocchi di foglia? Porco. Io sto spaccando l'handstone a mano. Con i due rossi in base. Ci stanno lottando. Non mi hanno visto. Non mi hanno visto, ma sono mongoli. Se ne sono appena andati. Quanto hai dovuto l'handstone? Mi sto spaccando le mani. C'è un drago dentro. Cioè, un drago dentro. Ehm, che merda. Tu... Sia forti, no! Resiste un drago. Che bello. Tutto merito mio. Ovviamente. I due rossi vogliono la mia pelle. Cioè, continuo a cantare probabilmente anch'io. Vogliono il mio pellet. No, quello costante di tio. Come ce l'hanno distrutt? I gialli. No! Mi hanno ucciso nel momento in cui han distrutto le... No, ma io ho tutto colpa tu. Eh, lo so, hai ragione. Non è vero, scherzo. Gialli, io sapevo che dovevo uccidere di quando ne avevo... Ero lì che bestemmiavo contro i rosa, anche tu. Che cacchio di fai. Eh, no, yeah. Guardi, tu sei a quattro. Sei a due. Sono morto. Gialli. Quattro, due, morto. Io odio quella mucca. Non sono uscito a uccidere, manco una volta. No, una volta forse. Ma io odio quella mucca. Io la odio veramente, quella mucca. Ok. No, ma aspetta. Ah, ma sei tu. Perché sei spawnato tu, ti ha seguito l'armatura. Gabbo, tu punta il verde, io punto il diamante. No, no, no. No, andiamo negli nostri vicini. Io, vieni con me. Ah, ho messo un sacco di legno, sti cosi. Eh, 10 di ferro ti fai la cetta. Eh, queste persone. Che schifo le persone che mettono il legno. E poi, pure le regnero. Voi che guardate questo video e mettete il legno nelle baggers, fate schifo. No, dai. Noi vi vogliamo tutti bene. No, dai, io venivo a passarsi con le... Ho capito, dovrò editare tutta la notte. Bravo. A meno che non vieni tu a editarmelo il video, anche se non sai come si fa, ma dettaglio. Io sono davissimo nell'editing. Che programma voglio? Io. OBS. Perfetto. Io, ma loro hanno 30.000 volte la droga che abbiamo noi sull'edit. Sei un pazzo. Mi servei il... Io sono qua. TNT, mi serve il TNT. Tiene di scopertare uno. No, Gabbo, stanno arrivando il rosso. Sta arrivando il rosso del ponte. Che qualcuno ha deciso di fare il ponte. Oh no, è il piccolo Alex. No, lui è amichevole. Piccolo Alex. Come stai? Io arrivo. Ah, ma tu hai la cetta, sei un figo. Però pensavo ci fosse l'Handstone sotto... Che cacchio ero? Ho sentito un creeper. Anch'io ho sentito un Enderman. Cioè, un Enderman sì, un creeper. Che cacchio è un enderman. Ma sì, l'età è quella che è. L'età è quella che è. Che cacchio vuol dire? Perfetto, Gabbo. Stiamo andando leggermente bene. Cioè, leggermente meglio delle altre partite. Però facciamo schifo ancora. Perché non abbiamo parlato niente. Vai, vado al singolare. Ok, fai schifo ancora. Ma... Ehi, fai farlo al singolare. C'è l'età. C'è l'età. Eh, non hai l'età. Oh, grande capo con Shockness. Spoiler per un prossimo video. Che uscirà sul canale. Che dovrà ancora essere registrato. Che non so quando registrano. Non so quando uscirà. Faremo la... Riconosci la sigla dei cartoni animati. Giapponesi. In generale. Ci sarà anche poi un video in cui... Riconosci la sigla dei cartoni animati con la traduzione giapponese. Che è successo? Ah. Hai ucciso un... Ho ucciso uno, aveva cinque smeraldi. E un sacco di eroi. Grande gabbo loco. Facciamo tipo... Riconosci la sigla degli animati. Poi faremo anche riconosci la sigla degli animati. Io ho guardato solo due anni. Tranquillo. Abbiamo già protection. Potremmo andare dai... Sono vivi. No, i grei sono morti. Potremmo andare dai rosa. Andiamo con chi vuoi. Io sono messo benissimo. Perfetto. Quindi c'è il 2 fireball. Spadding in avanti. End up. Andiamo dai viola che sono sempre al centro. No, no. Andiamo dai rosa. Sono i rosa infatti. Non ci sono i viola in parola. Sì, più o meno. Il daltonismo è quello che è. Il daltonismo è quello che è. Eh, ucciso. Sì. Molto un odio. Un sacco di rompi. Non è il mio odio. Ha detto bene. A me sembra quello di Dora... Nel che c'era in Doraemon. Cosa? Sì. Che cacchio è che mi picchia? Non ci posso credere. C'era già un rosa nell'isola dei blu. Non me ne sono accorto. Io ho detto il rosa. Gabbo ti voglio bene. Aspetta, la blu è una nostra isola. Ah, no. Allora ho sbagliato. Era nell'isola. Dei rossi, scusa. Ah, ok. Ucciso sto cosa. Dicevamo giusto che il daltonismo era quello che è. Eh, eh, eh. Letale, età. Eh, eh, eh. Non mi ricordo più come fa la canzone. Io ho sei diamanti? Oh, ci stavano diamanti. Io ho nella cesta. Messi. Oi! Oh, oh. Tu datti la calmata. È morto. Ok. Dovremmo metterci qualcosa di un po' più decente. Ci penso io. Vabbè, mi hanno quasi vinto. Magico Doremi. Comunque se registro quest'ora è tutta colpa di gotta. Ok. Che altro c'è da far fuori? Solo più gli acqua da distruggere gli lenti. Gli acqua sporca e i bianchetti. Non mi piace come parli delle persone, tu. Voto 10. Ah, ma sono quei vicini che si fanno la guerra. Non sono nemmeno arrivato a 100. No, scherzo. C'è un punto. Ma aspetta. Io provo punti. Gli bianchetti non hanno letto. E ne è rimasto uno solo. E gli acqua... Tu hai un arco. Schifo. Se ti piacerebbe. Ma no, intendo il bianco all'arco. Schifo. Beh, cacchio. Bianco, preoccupati di qualcuno che non vuole ucciderti. Adesso noi puntiamo al... Lui mi sta frecciando. Io mi preoccuperei. Che spavento. Allora, sta nel letto guardatela. Scusa, nel letto guardatela. Sì, ma c'è qualcosa schifo che freccia. Aspetta. No, scrivi al bianco. Scrivili che vogliamo fare il jam. Perché scrivi quando posso ucciderlo? Ucciso. Gabò! 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 Ti vedo. Wow! Bomb and man. Grande! Victory, baby! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Siamo fatti! Abbiamo vinto! Grande! In verità, Josef Akana. Cosa? Piamolo in culo. Perché è l'envil? Non lo so. Yeah! Quindi, ragazzi. Con questo concludiamo anche questo video. E ringrazio Gabò per aver partecipato. Trovate il link del suo profilo Instagram in descrizione. Non so se lo metterò sotto Gabò o sotto 15fps, baby. Perché il suo nick, anche se è orribile. È lì che è saltella. Aspetta, ecco. Lo ringrazio. Comunque vi invito a passare anche nei profili Instagram degli altri della THG. Quindi io, Gigi, Stefano. E vi invito a passare sulla pagina Facebook che non uso da una vita. Però c'è, esiste. Il canale Telegram. Da G.S. è tutto. Ciao a tutti. Bella! No, ripeti il verso. Ciao a tutti. 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 Grazie.